Allora sì, diciamo che le nuvole ovviamente da un punto di vista narrativo e non meteorologico. Io ho il libro, anche qui sempre tornando al discorso del viaggiare, è un libro che è nato a Parigi, per cui durante un mio soggiorno a Parigi ero arrivata in questa Rue Therese, che effettivamente io descrivo all'inizio del mio libro, e arrivo lì, apro le finestre e vedo questi tetti di Ardesia, Parigini bellissimi, io vedo naturalmente queste nuvole, lo sfondo, la tour Eiffel, e da lì comincia ad intrigarmi, ad affascinarmi proprio la simbologia delle nuvole. Io comincio a pensare a un possibile collegamento fra le persone e le nuvole, perché un po' siamo anche noi come le nuvole, c'è la nuvola del bel tempo, la nuvola del cumulo per esempio, che è in alto nel cielo, e poi c'è la nuvola invece temporalesca, il cumulo nembo. Ho scoperto che esiste un mondo, esiste proprio una nomenclatura delle nuvole, esistono dieci tipi, hanno cominciato a studiarle nell'Ottocento, c'era questo scienziato inglese, Mr. Howard, e io ho cercato un po' di fare un'associazione fra ogni tipo di nuvola, più o meno positiva, più o meno tempestuosa, eccetera, a un modo di, così, un personaggio, un modo di comportarsi. E in questo romanzo, appunto, i miei personaggi hanno anche delle caratteristiche nuvolose. E mi è anche piaciuto usare la nuvola, al di là della narrativa, ma proprio come simbolo di possibilità di trasformazione, perché il cielo cambia continuamente, c'è il momento di solarità, c'è il momento un po' più di tempesta, e così anche noi nella nostra vita dobbiamo cercare un pochino di guardare il cielo, di ispirarci e pensare che domani è un altro giorno, tanto per fare una citazione. E quindi, niente, questo è, io lo vedo molto, queste immagini delle nuvole, come simbolo di trasformazione e di possibilità proprio di rinnovamento, ecco. È un bel esempio, veramente, molto, molto romantico, davvero. Mi sento un cirro in questo momento, un cirro strato, quelli che precedono la perturbazione o cose di questo tipo. Quindi, Pasquale cosa ti senti tu? Allora, no, io voglio chiedere invece, la nonna che introduci, mi sembra, ah, ci sei. La nonna che introduci all'inizio del romanzo, del tuo libro, è una nonna vera, cioè nel senso che era tua nonna, oppure no? Questo mi è rimasto come dubbio, questa cosa, perché mi hai raccontato così bene, potete stare raccontando la sua vita, forse. Sì, 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 ma allora, io, diciamo, c'è molto, diciamo, di me e dei personaggi della vita reale che io un pochino trasfiguro narrativamente, però questo effettivamente era una mia parente, una mia parente che per me ha rappresentato proprio l'ispirazione, anche lei, insomma, ha cercato un pochino di dare uno sguardo diverso, un pochino alla vita, e io l'ho presa un po' come modello, come simbolo, simbolo di possibilità di vedere le cose da più punti di vista. Quindi esiste quella piazza delle erbe, esiste questa parente, questa zia che accompagna la bimba a guardare il cielo, sì, sì, assolutamente, sono personaggi veri, sì. Io ancora non sono arrivato a capire dove le nuvole hanno a che fare con Mick. Allora, guarda, perché Mick, sì, 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 Mick, lei è appunto, è una speaker in una radio, in una radio privata, e ha… Mi incuriosisce per questo, eh. No, ma secondo me Pasquale è anche incuriosito, forse, essendo uomo di radio, di sound, eccetera, del fatto che comunque c'è anche una playlist nuvolosa, perché ho cercato anche di questi personaggi, anche di fare che loro ascoltino musiche ispirate proprio, per cui c'è da Emma a Ludovico Einao di Cloudatras, per cui c'è anche una playlist, una cloud list ispirata appunto alle nuvole. Mick, come ci arriva questo? Lei ha questa zia, che per lei è comunque un punto di riferimento importante, affettivo, emotivo, e questa zia le lascia in eredità un petit carnet de nubelusité, perché è una zia che abita a Parigi. E questo piccolo quaderno delle nuvole contiene dei consigli, dei suggerimenti per capire, per imparare a guardare il cielo, dà dei consigli di vita, ci sono anche dei racconti, essendo un diario ci sono anche delle pagine riguardo il passato, il passato di Mick, della sua famiglia, quindi attraverso le nuvole è una scoperta del suo passato e anche un incoraggiamento per il suo futuro sostanzialmente. Quindi non sto spoilerando, però voglio dire che poco per volta in questo romanzo, che è un romanzo dalla copertina rosa, però è anche un romanzo di formazione e di trasformazione, la mia protagonista arriverà a essere una nuvola nove, che è la nuvola della realizzazione, la nuvola positiva del bel tempo. Io aggiungerei solo un'altra definizione, è un romanzo di immersione, perché quando cominci a leggere non vorresti smettere più, però sono 300 pagine che tutti in una volta noi comuni mortali non riusciamo ancora a farlo, insomma a leggerlo. Io comunque sono già immerso soltanto a sentirla parlare, perché quando lei racconta ti fa davvero entrare, e anche a una voce, visto che parlavamo di radio, radiofonica, io veramente l'ha già fatto, magari l'ha già fatto e me lo sono perso io, i podcast, diciamo, i narrativi, cioè i libri, gli audiolibri, dove lei racconta, perché sarebbe, secondo me, perfetto, adatta da quel punto di vista. Raccontare un audiolibro, magari del suo libro, La lettrice di nuvole? Ma io, allora, mi piace molto la voce, usare la voce proprio come strumento di comunicazione, perché la voce permette anche di un'interazione diversa. Una persona ascolta e al tempo stesso può sognare e aggiungere un qualcosa in più, mentre il visivo a volte ti dà un perimetro più stretto. Io, così, in modo molto artigianale, ogni tanto faccio dei podcast dedicati alle donne, donne soprattutto, donne che viaggiano, donne che hanno avuto un approccio innovativo in quello che loro hanno fatto nel corso del tempo. e cerco di usare la voce come posso, ovviamente, in modo, secondo me, in primo luogo, più che la dizione, deve, penso, arrivare la passione per quello che uno fa, ecco, forse quello un po', che la voce ci permette di avvicinarci in questo modo alle persone, penso. Si riferisce praticamente ai discorsi del Krapfen, in qualche modo? Sì, sì, anche, sì, 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 che poi, allora, è un titolo spiritoso, eh, nel senso che... Volevo capire, volevo appunto... Sì, allora, sì, sì, è assolutamente ironico, nel senso che io sono partita dal Krapfen, perché lo ritengo un dolce, ottimista, che comunque ha, lascia sempre un qualcosa da scoprire, perché, perlomeno, non so voi, ma a me a volte capita, compro il Krapfen e ogni volta c'è qualche sorpresina, qualche ripieno che magari non mi aspettavo. Quindi, io racconto anche un po' questi personaggi che sono le persone più disparate, donne soprattutto nel corso della storia, che però hanno avuto un qualcosa di... una sorpresa, un elemento sorpresa, hanno dato un valore aggiunto che può essere, non so, la grande viaggiatrice, che può essere... A volte si scoprono anche delle figure femminili, non so, per dire, posso dire anche Calamity Jane, faccio un esempio, che invece era una donna di grandissimo temperamento, che ha avuto anche una delle vicende familiari complesse, che insomma le donne della frontiera americana, poi ci sono donne dello sport, insomma, è veramente si è aperto un mondo che io cerco un pochino di raccontare in modo divertente, ma anche ispirazionale, se vogliamo. Ne parla di donne, ma lo suggerirebbe anche un uomo, tipo a me o Pasquale, leggere il suo libro? Sì, assolutamente sì, sì. Anche perché comunque ci sono dei personaggi anche maschili, che c'è tutta un'interazione, secondo me, è anche provocazione, è giusto che sia uno scambio di... così di... di vedute, insomma. perché è una scoperta reciproca, insomma, poi del resto anche, volevo dire, nel mondo proprio della narrativa, i cosiddetti generi, questo viene un po' presentato come libro rosa, perché editorialmente hanno voluto dargli una copertina, molto rosa, però è proprio una storia dove ci sono personaggi diversi, in tutto il mondo della radio, ci sono le amiche di lei, però ci sono anche i colleghi radiofonici, gli altri speaker, quindi secondo me è un libro che può essere, che può incuriosire a più livelli e come dicevo, il mondo della... anche della narrativa non è più così settoriale, così diviso strettamente in generi come poteva essere una volta, cioè non è soltanto strettamente il giallo, non è strettamente noir, non è il rosa, ma ci sono tantissime declinazioni anche nel mondo della scrittura, insomma. Un arcobalino di declinazioni. È tutto molto fluido, che però è un concetto molto, molto attuale, secondo me. E... In un'intervista, Roberto, che andrà in onda fra qualche giorno, noi andiamo ad omaggiare quello che il 13 di febbraio è stato il giorno mondiale della radio. Ah, certo, certo, come no, come no. Radio Day, vuol dire io, correggimi in inglese perché... No, no, ma è vero, è verissimo. Sì, è vero, sì. E anche... Infatti è un avvenimento che secondo me è veramente stupendo, è importante, anche perché voglio dire, è patrocinato dall'UNESCO, quindi anche ha una, come posso dire, un endorsement autorevole. Certo. E a me era piaciuto anche il fatto che ogni anno in questo World Day diano un focus, cioè un tema, per cui c'era l'anno dell'uguaglianza di genere, l'anno della radio e sport, radio e dialogo, e quest'anno mi è piaciuto il fatto che fosse radio e trust, radio e fiducia. E questo è veramente importante perché la radio anche può arrivare proprio anche come mezzo tecnico, secondo me, anche in parti del mondo, in contesti dove magari, non so, delle troupe televisive, proprio per un discorso di attrezzature, eccetera, non possono e quindi ha una flessibilità di comunicazione che altri strumenti e quindi è importante che ci sia la fiducia in questo mezzo.